Musica Ragazzi miei Un'altra settimana Un'altra settimana ci dirà di passione Di tensione Di ansia Di notti insonni Come quella passata Non so voi ma 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 Ho fatto veramente fatica a dormire In questi ultimi giorni Non ne voglio neanche parlare della scorsa notte Perché Mi sono alzato almeno quattro volte Sguardo fisso nel soffitto E questo sarà Il motivo della prossima settimana Perché alla grande vittoria Se fosse offerta dopo un primo tempo Masticato amaro Del Milan contro l'Atalanta La gioia di vedere Uno stadio applaudire La squadra con tanto di famiglie Sembrava quasi una festa a scudetto Ed era prematuro Perché l'Inter Ha dimostrato di esserci Lo ha dimostrato In un campo ostile Come quello di Cagliari In molti dicono Il Cagliari non è neanche sceso in campo Non sono d'accordo Perché così è facile Con il senno di poi L'Inter è entrata bene L'Inter è entrata cattiva L'Inter ha fatto Più azioni da gol Che corner battuti Ha preso pali Ha avuto mille occasioni Altri miracoli di cranio Quindi l'Inter Chapeau Come dice il nostro amico Ma meglio Amico più degli interisti Che il nostro Antonio Cassano Ha fatto il suo dovere E non era facile ragazzi Non era per niente facile Dopo la partita del Milan Perché la vittoria Così importante del Milan A San Siro Contro l'Atalanta Unica speranza degli interisti Affinché si interrompesse Il percorso del Milan Che dopo il derby Perso 3-0 Ha inanellato Solo, solo, solo Vittorie Beh Dopo quella Vittoria Rossonera Non era facile Non era scontato Scendere a Cagliari Un Cagliari che si doveva Giocare la salvezza La salvezza Perché la salvanitana Conte l'Empoli È inciampata In un 1-1 Sterile Che gli ha fatto perdere punti E invece Cagliari Non ce l'ha fatta Contestazione a Giulini A fine partita Si è visto un Cagliari Diciamo sul pezzo Solo dopo I minuti dopo Aver segnato Con quel fantastico tiro Del terzino Del terzino Cagliaritano Che ha messo una palla Deviata da Skriniar Però Alle spalle Alle spalle Di Andanovic Io ho visto un Inter solida Ragazzi Quindi Non sono preoccupato Per la prossima Perché toccherà sempre A noi Giocarci il vantaggio Abbiamo due risultati Utili su tre Però Dobbiamo andare Come ho detto Nella diretta Con calciomercato.it Dobbiamo andare Con la voglia Di fare tre punti Se facciamo i calcoli Noi Non siamo Una squadra Capace di fare i calcoli Guardate bene Il calendario Ripercorrete Riavolgete il nastro Di questo calendario Ogni volta Che si giocava in casa Contro una Tra virgolette Abbordabile O meglio Dal blasone E dallo spessore Di rosa E di qualità Inferiore al Milan Non sono arrivati i punti Perché? Perché l'approccio È sempre stato Quello sbagliato Chiaro è che Questo gruppo È arrivato Ormai A dannusare A dannusare Il traguardo Lo ha lì Lo ha lì Sente il fiato Sul collo Dell'Inter Ma il fiato Sul collo Proviene da dietro E loro sono dietro Di due punti Quindi il Milan Deve fare il suo Il sassuolo Però Non è L'ultima delle ultime Non è Sicuramente La squadra Ideale Per il Milan Visto che In quel Reggio Emilia Noi abbiamo Sempre 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 Di Emilia Scusate Abbiamo sempre 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 Dei problemi Abbiamo il Berardi Tra l'altro Di fede Neroazzurra Pronto Pronto Sempre a colpirci Quindi noi dovremmo fare Come ha detto uno Su Twitter Un gol in più Di Berardi Un gol in più Di Berardi Un gol in più Di Berardi Per portare a casa Questi tre punti E questa gioia Che pubblico Di oggi Assassino Merita Oggi sono stato A casa Sapete bene Il perché Nei video Lo avete trovato Come motivazione Non sono mai stato Scaramantico Ma 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 Non mi sentivo Non mi sentivo Di andare Allo stadio Dopo aver saltato Alcune partite Per questione Di lavoro Di lavoro Quindi rivederla Noi quando Noi quando giochiamo E quando si svegliano I ragazzi Della sinistra E che non è Il partito democratico Ma è la nostra Fascia sinistra Ovvero Il duo Leao Teo Hernandez Il Milan Il Milan è incontenibile Molti tifosi Dicono Ragazzi Rafforziamo La fascia Destra Perché se Dovessimo riuscire A rafforzarla Almeno la metà Di quanto è forte La fascia sinistra L'anno prossimo Potremmo veramente Divertirci E soprattutto Aumentare La pericolosità E l'imprevedibilità Ritornando alla partita Di oggi Quella di oggi È stata una partita Complicata Molti dicono Bruttomina Nel primo tempo Ragazzi Le partite Si giocano In due Gli allenatori Sono due Sono bravi Gli allenatori Perché per quanto Ci possa stare Sulle scatole E sulle balle Come si dice a Milano Gasperini È un grande allenatore Tatticamente Sa quel che fa E sa come Opporsi A quelli Che sono Diciamo Le bocche di fuoco Degli avversari In questo caso La fascia sinistra Con Leao e Ternandez Lui ha raddoppiato Con Gosens Spostato Da quel lato Ha creato Una superiorità Per evitare Che Leao Se ne volasse Via In surplus Come di solito fa E per gran parte Della gara Ha cercato Ha cercato Di limitare Le linee di passaggio Rosso-nere Per far sì Che la qualità Di fraseggio Degli avanti Rossoneri Potesse essere Interrotta Proprio da questo Intasamento In area Giroud Ha fatto Sportellate La sua onesta partita Ma diciamoci la verità Non ha fatto La differenza Quando poi È entrato Rebic Le cose Le cose Sono sicuramente Migliorate L'imprevedibilità I movimenti Un po' isterici Anche dello stesso Rebic Aiutano Favoriscono Gli insedimenti Degli altri Bellissima l'azione Del gol Di Leao E soprattutto Ancora più bella Quella di Teo Hernandez Ero in diretta Con tutto Mercato Web Trovate il video Con scritto Esultanza Sul gol Di Teo Hernandez Ero in diretta Non mi sono contenuto Sembrava veramente La partenza Di un TGV Partenza da Milano Centrale Arrivata La stazione Di San Siro Ha scagliato Una palla In diagonale Che si è infilata Dietro la porta Del difensore Del difensore Dell'Atalanta Milan Che ha regalato Veramente una bella giornata I tifosi erano Piedi di gioia La cosa più bella La cosa più bella Ragazzi di questo Pomeriggio Seppure ancora Tutti in bilico E vedere I bambini I bambini felici Bambini rossoneri Che in questi anni Diciamoci la verità Hanno dovuto Masticare Amaro Sono dovuti Crescere Ha dovuto frequentare La scuola Vedendo gli altri Vincere E essere milanisti Dopo un periodo Così duro Li renderà Ancora più forti Nel prossimo futuro E io mi auguro Che già da questa stagione Possano sorridere E festeggiare Perché veramente Molti di loro Non hanno mai visto Un trofeo alzato C'erano veramente Tanti tanti ragazzini Tra l'altro Su Twitter Ne ho postati alcuni Di un'amica Di un'amica Rossonera Che ho contattato Magari la inviterò A replay Dove i suoi due Angioletti Dicevano A numeri Corrispondevano I nomi Dei giocatori In una matematica Precisione Quasi Quasi Sorprendente Da fare invidia Ai più grandi Quindi Questa nuova generazione Di milanisti Che Piccoli Cacciavit Come si dice a Milano Cacciavit È il termine Con il quale Si appellano I tifosi Rossoneri Perché Noi storicamente Proveniamo Dalle Officine Quindi I bauscia Come si dice I commenda I commendatori Erano quelli Della Milano Bene Tutti interisti Avvocati Notai Ingegneri Mentre noi Noi siamo cresciuti Nelle officine Mani sporche Di grasso Tanto lavoro Tanto sudore E questo è un po' Che caratterizza Il milanismo Quindi questi piccoli Cacciavit Sono Una generazione Di ragazzini Che sono cresciuti Con il Milano In difficoltà Ma con i papà Che hanno Inculcato il milanismo Quindi Li voglio vedere Veramente pesteggiare Non succederà Questa notte Non sono In piazza Duomo Sono qua Con tutti voi Credetemi Avrei preferito Trascurarvi Almeno per questa sera E magari incontrare Molti di voi Proprio in piazza Duomo Non è così Ma lo sport È bello Proprio perché Perché regala Impredividibili Risultati In verità Era prevedibile Che si rimandasse A settimana prossima Un campionato bellissimo Che Fino al novantesimo Non sa Attribuire Lo scudetto A una squadra Piuttosto che l'altra E le retrocessioni A una Piuttosto che l'altra Questo vuol dire Che la serie A Bistrattata Trattata pesci in faccia Gestita Degli incompetenti Sotto tutti i punti di vista A livello istituzionale Nonostante tutto Come capita Nel nostro bel paese Nonostante La politica Nonostante Chi abita questo bel paese È così bello Che riesce A superare Ogni ostacolo Quindi questo campionato Distrattato perché Non si è arrivato A cento punti Ma che se ne frega Siamo qua A novanta minuti Dalla fine Milan e Inter Da una parte Dell'altra del naviglio A lottarci Uno scudetto Col coltello Tra i denti Io mi auguro Che la prossima giornata Faccia felice noi Però Io quello che voglio dire A tutti i milanisti Siate orgogliosi Della nostra squadra Perché a prescindere Questo Quanto fatto In questo campionato È veramente Tanta roba E l'orgoglio Per noi milanisti Ha qualcosa Che si porta Indipendentemente Da il risultato Certo è Che con uno scudetto Sul petto Potrebbe essere Veramente Una Una scorciatoia In questo percorso Di crescita Del Milan Ragazzi Io vi saluto Sono senza voce Sono senza C'è ancora un po' Di adrenalina in corpo Non so se dormirò Perché mi immaginerò Tutti I Diciamo I possibili scenari Per settimana prossima Questa sarà una settimana Lunghissima La passeremo insieme Con un po' di video Con un po' di novità Ma con Un obiettivo Nella Nella testa Sassuolo 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 E i tre punti A Sassuolo Un gol più Di Di Berardi Ciao ragazzi Forza Milan sempre Mettete mi piace Condividete Iscrivetevi al canale Fate quello che volete Ma soprattutto Tifate Milan E voglietevi bene Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti